Questa sembra essere davvero la volta buona. Domani, lunedì 22 giugno, ripartiranno i lavori di completamento del Centro per l'Autismo di Rione Valle. Il Tribunale di Avellino, infatti, rispondendo all'istanza dell'amministrazione comunale, si è espresso in maniera positiva affinché la ditta Battista di Contrada, che subentra all'impresa Piano e Figli, da diversi mesi in concordato preventivo, diventi titolare dell'appalto, almeno per i residui interventi. Dunque, la realizzazione di quelli che sono i lavori di rifinitura e sistemazione dei locali interni e dello spazio esterno della struttura, finalmente possono riprendere e saranno ultimati nel giro di pochi mesi. Molto probabilmente, salvo intoppi che più che mai in questa storia non possono essere esclusi, il Centro potrà essere inaugurato prima della fine dell'anno. E' questo l'esito venuto fuori dall'ultima riunione del tavolo istituzionale permanente che dieci giorni fa ha visto confrontarsi il prefetto di Avellino Carlo Sessa e il capo di gabinetto Esther Fedullo, la consigliera regionale Rosetta D'Amelio, il sindaco Paolo Foti, l'assessore comunale ai lavori pubblici Costantino Preziosi, con la presidente dell'AIPA Elisa Spagnuolo, accompagnata da Michelangelo Varricchia e dall'avvocato Santinelli. Gli impegni presi in quella sede sono stati rispettati. Era la notizia che i ragazzi autistici e le loro famiglie attendevano con ansia. Protagonisti incolpevoli di rimpalli burocratici e ritardi delle istituzioni competenti stanno penando da anni per poter usufruire di una struttura che si preannuncia di assoluta eccellenza nel panorama della sanità nell'intero meridione d'Italia.